La professoressa avvocato desiderata Berloco, presidente del Nomentana Hospital, ha ospitato mercoledì 11 febbraio, intorno alle ore 9, l'ex presidente dell'AS Roma, Rossella Sensi. L'occasione è stata dettata dall'organizzazione in comune tra le due imprenditrici, nonché amanti dello sport, di una giornata nel quale sarà organizzata una raccolta sangue per le emergenze degli ospedali romani. L'avvocato e professoressa desiderata Berloco e Rossella Sensi hanno gettato le basi per l'organizzazione di questa giornata di raccolta plasma che si svolgerà presso la struttura Nomentana Hospital in una data che dovrebbe essere individuata nel prossimo mese di maggio. La figlia del grande presidente della Roma, Franco Sensi, accompagnata dal suo entourage capeggiato da Massimo Emili, ha visitato i padiglioni della struttura complimentandosi con il presidente desiderata Berloco per l'alta professionalità e per l'efficienza della struttura. Tiburno.tv siamo qui al Nomentana Hospital, l'avvocato desiderata Berloco, presidente, ha un ospite molto particolare in questa splendida giornata di sole, di questo febbraio quasi primaverile. Avvocato buongiorno, allora vogliamo presentare per tutti i nostri lettori e visualizzatori chi ha oggi lei come ospite qui al Nomentana Hospital? Ho come ospite la dottoressa Rossella Sensi per la gioia di tutti i tifosi di calcio, ma non solo calcio, la dottoressa ci spiegherà il motivo per cui oggi è qua. Grazie dottoressa Rossella Sensi, benvenuta al Nomentana Hospital. Allora dottoressa ci spieghi qual è stato il motivo che l'ha spinta a qui scoprire il pianeta Nomentana Hospital? Diciamo che per fortuna questo pianeta è conosciuto dalla nostra famiglia da diversi anni, quindi non è una novità ma è una bellissima sorpresa aver visto un centro all'avanguardia che non dispiace per chi vive in questa bellissima città, sapere che ci sono dei centri così importanti e così seguiti in ogni aspetto, non solo medico ma anche di cura del malato a 360 gradi. Sono qua perché con l'associazione Franco Sensi, ricordo di mio padre, stiamo cercando di promuovere e di sensibilizzare le persone alla donazione del sangue che purtroppo manca troppo nel Lazio, nella città di Roma nello specifico, per cui grazie alla sensibilità del Presidente, stiamo cercando di organizzare una giornata per la donazione del sangue. Ecco, è stata individuata questa giornata? Sì, stiamo definendo tutti gli aspetti di questa giornata e presto la comunicheremo. Io vi ringrazio, ringrazio l'avvocato desiderata Berloco, Presidente Nomentana Hospital, ringrazio la dottoressa Rossella Sensi, soltanto una parola per la dottoressa, da tifosa della Roma, vorrei un suo giudizio sulla Roma di quest'anno. Sono tifosa, non dico niente, incrocio le dita, aspetto la fine del campionato. Tantissimi tifosi della Roma sono legatissimi alla figura di papà, perché papà è stato per la società Calcio Roma forse il più grande presidente della storia. Ecco, dottoressa, lei quando va in giro ovviamente ancora c'è l'ego del grande Franco Sensi. Franco Sensi è stato un grande presidente, forse il più grande presidente, non dimentichiamo di Noviola, non dimentichiamo tutti quelli che hanno fatto parte della storia di questa grandissima società. Che dire, io mi commuovo a parlare del mio grande papà, quindi non so, pensiamo a lui sempre con tanto affetto, ci manca. E quello sicuramente tanti, tantissimi tifosi della Roma gli dedicheranno sicuramente tantissimi pensieri. Grazie Avvocato Berloco, grazie dottoressa Sensi e buona giornata. Grazie a lei. Grazie.